Ciao viandanti e ciao vagabondi! Zai una schiscetta per il pranzo già preparati. Domani dopo 40 giorni di inattività forzata, sveglia ad anticipare l'alba e via verso Ornica, in provincia di Bergamo. Qui prenderemo il sentiero 106 e tenteremo di conquistare la vetta del pizzo tre signori. Gambe e cuore ci dovrebbero essere, anche se il condizionale in questi casi è doppio. Per quanto riguarda la testa, al momento direi che non ci siamo proprio, viste le vicissitudini negative che ho vissuto sia al lavoro che nel quotidiano privato. Comunque non voglio tediarvi più di tanto con le mie parametri. Ora nanna e solo domani vedremo cosa ne salterà fuori. Ciao ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! ! ! Ciao viandanti! Ciao vagabondi! Pausa meritata, qua la baita, ho mangiato una barretta, ho bevuto un quarto di sali minerali, acqua con sali minerali, e adesso via gli ultimi 950 metri di dislivello per arrivare in vetta al pizzo tre signori. Dai che ce la fai! Oh! 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 Oh lo fin. Oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ultimo tratto qui per attaccare la vetta, proprio per niente facile. Mi ripeto ancora, ma questa salita è davvero durissima, very hard. Io ho bisogno di qualcosa di vero, che illumini il cielo, proprio come te. Ho visto il sole nei tuoi occhi, calare nella sera, ci vuole un attimo per dirsi addio. Spera, bella piede sulle rive, mi freddi il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio. Stupendo, semplicemente stupendo. Qualcosa di buono, che mi illumini il mondo, buona come te. Che ho bisogno di qualcosa di vero, che illumini il cielo, proprio come te. Siamo caduti in volo, mio sole. 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 Ho bisogno di qualcosa di vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.